buonasera ciao buonasera benvenuti in questo nuovo video conad quando vedete conad vuol dire cibo vuol dire che è una bella serata questa è vero amore un storio gigante dai facciamo una foto ciao amore vediamo cosa troviamo dentro siamo curiosi che cosa papperemo ma sera cosa ci vedrete fa fare il too good too bad mamma mia che roba gigante c'è qua sapore dintorni cos'è prosciutto arrosto buono prosciutto arrosto amore ma pagate 6 euro e 99 no 5 99 5 99 6 c 4 e 99 fagli vedere a 4 e ciao allora ti tocca in singlugna 4 99 allora vuoi ti tocca in singlugna chi è vuoi la vaschetta di plastica amore tira fuori il sacchetto numeroso addio il sacchetto numeroso sacchetto numeroso no tagliatelle di giovanni no ma stessi non possiamo farle tagliatelle 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 di mamma pina qual è che scadono amore guarda uova extra fresche di gallina allevate all'aperto dai quando è che scadono poi c'è in un minuto in due o tre porzioni e si cercano 25 giugno venerdì domani mamma mia domani si mangia le tagliatelle domani quando amore mi è venuta un'idea strana adesso andiamo continuiamo a vedere cosa abbiamo trovato però mi sa che stasera tagliatella c'è questa forse forse facciamo la tagliatella ma si quasi tre minuti infatti ma arrangio ci arrangiamo more andiamo avanti a vedere cosa c'è dentro intanto le tagliatelle ci piacino no vabbè more totani totani e patate no vabbè faglielo vedere da vicino guarda che perde un po' no vabbè no vabbè ma stasera cosa ci mangiamo 6 euro e 89 sono queste ma stasera è festa appoggialo qua sopra perché perde un po' mmm buoni totani troppo vinco non perde no i totani dobbiamo massaggiare assolutamente tira fuori l'altra vaschetta si tira fuori tiriamo fuori la parmigiana no la parmigiana no la parmigiana no no non è la parmigiana cos'è? lasagna e ragù no amore allora mi sa che le tagliatelle faremo domani eh more no vabbè c'è un delirio da Tamara questa sera c'è la lasagna tocca a me abbiamo incontrato da una persona in cosa che non ritirare uuuh certosino a crescenza more certo certosino cresce crescenzino questo quando è che scade? 25 domani ma è più fuori che dentro che sento? che sta sbordando fuori bene bene veste questa con totani e la lasagna per antipasto c'è rimasto qualcosa eh già già sento al tatto eh vabbè dai no yogurt e questo scade 24 uh conada e conada e cremosi al caffè yogurt intero buono amore 24 eh 24 questo scade oggi vabbè ciao dai allora facciamo così stasera ci mangiamo lasagna prosciutto totani e la crescenza ci riscaldiamo un po' di pane e torniamo con una bella apparecchiata a dopo eccoci apparecchiati allora ci siamo riscaldati la lasagna abbiamo fatto un pezzettino per uno ovviamente ma io devo assaggiare i totani ragazzi allora i totani l'abbiamo messo con la crescenza che era un po' sbagliata non si sa che la crescenza è morbida io voglio portarla a casa non sappiamo in totani vai vai a totani mmm buonissima davvero davvero buona lasagna amore bacano e l'abbiamo fatto andare bene no come l'altra volta il nido lì di zucchine e l'avevamo fatto andare poco poco l'avevamo fatto andare il zucchine il prosciutto per adesso l'abbiamo messo via perché forse non lo mangiamo però tranquilli non si butta via niente non lo mangeremo oggi o mangeremo domani è vero amore come la lasagna buona che bella sorpresora allora lì mentre prendiamo la nostra magic box e non si era arrivata un signore che stava prendendo anche lui la magic box e ci ha detto che lui viene sempre a prenderla una grazia anche lui ma se la troviamo ben volentieri buona salasagna amore l'ho messo troppi minuti quindi quali ho prenotato generano 5 e noi invece quando le prenotate a te io cino l'ho presa è tutto e poi mi dice rimanente una quindi vuol dire che secondo me è un paio si è scippate due no amore una ne ha presa lui ma quella gente sta lì veramente vabbè comunque la lasagna è buonissima vedete che ha preso come sempre con 2go2go in una sorta diciamo di pizzeria al taglio dentro centro commerciale quattro anni ha dato un teglione di pizze mister alice pizza si chiama com'è che si chiama nel centro commerciale di turno e ci ha detto tenetelo sott'occhio perché ha detto che lui ha preso il 2go2go a questa alice pizza che è una pizzeria dentro nel centro commerciale e ha detto che è tornata a casa con un teglione di pizza che era buonissima e noi amore c'è san pesta fino a mo' e va perché a cui ho messo un raggio di 10 chilometri il turno per noi è più lontano? il turno sono 15 sì 18 e amore però mi dici che è troppo? no non me lo vedi buono però ma volendo noi mangiare sta pizza e farci che ne so 18 chilometri è troppo? no è abbastanza che metto come raggio di cosa 20 chilometri proviamo la stalice pizza no? la metto la metto nei preferiti i preferiti diventa il puntino verde quando c'è uno dei tuoi preferiti anche i dolci che c'è anche i dolci bisognerebbe provare eh la pasticceria e dove la prendiamo la pasticceria? eh? boh e poi qua in giro qua vicino a noi perchè lo dico abbastanza voce? c'è anche l'arancina c'è tu vedi arancini è una rosticceria cosa non deve essere quella arancina là? però è difficile trovarla sta arancina va via subito eh? va via subito quella arancina lì mi dà il nome fanno arancini fanno arancini siciliani e basta invece ne ho trovato uno nuovo siccome io mi voglio mangiare c'è scritto c'è scritto prodotti misti di supermercato allora ascoltami a me siccome io mi voglio mangiare anche due totani questo ti parlo a te perchè se no non riesco a mangiare due totani mi dispiace a tu perchè la lasagna è buonissima c'è uno nuovo prodotti provenienti da supermercati un centro di ritiro a Dalmine io volendo ci posso passare dov'è il suo posto a Dalmine cos'è che fanno? il ritiro dalle 5.30 alle 20 che cosa? c'è scritto prodotti tipici misti di supermercato eh che ora ascolta se c'è la Conad la Conad viene prima di me io la proverei allora io massaggio una cucchiaiata di crescenza una forchettata di crescenza buonissima ammazza sarà anche sciolta tutta ragazzi sarà non un bel vedere ma ti dico che è buonissima sta crescenza è brutti ma buoni eh è brutti ma buoni è buonissima mamma mia e i due totani per forza mi devo mangiare una no cartofa che ti gonfia una una posso provare una che cavolo buono però i totani secondo me sono più buoni amore vabbè c'è il totano e il cartofa allora prima di tutto stai tranquillo che sei un po' agitato ma abbiamo riscaldato tre fetti di pane qua penso che avanzeranno mangi te anche perché io sono quasi piena guarda qua metti qua quello con sola coscienza amore a morte sua ora facciamo l'amore guarda il cortello spalmabile grazie buoni totani cambiati il piatto metti direttamente questo amore intanto quello è sporco di sugo ti metti direttamente questo è una cosa che si e si allungano e mettilo la nell'angolo si la no mettiti direttamente questo e marco si fa il secondo il secondo il terzo e il quarto i totani i totani i totani ma ragazzi o mai lo dico sempre la conad è un good più che tu vuoi perché è good come ti dicevo la conad non smentisce mai non si smentisce mai che gastronomia è veramente veramente buono poi a quel prezzo ragazzi cioè dai voglio dire su e abbiamo lasciato indietro il prosciutto che volendo ti potevi fare il pallino con certosa prosciutto il tost cioè ha voglia a bagnare capisci ci sono anche i tagliatelli che mi sono scordata pensa che volevo fare se non trovavo la lasagna avrei fatto prosciutto avrei fatto rosolare un po' di cipolla ci metti tanto 5 minuti se si è risolata la cipolla nel frattempo facevo bollire l'acqua aggiungevo alla cipolla il prosciutto rosso tagliato a quadretti aspetta le tagliatelle pronte quasi aspetta perché l'acqua ancora non bolle perché io penso che l'acqua ci metta un po' di più no? della cipolla e del prosciutto piano che poi la Giovanna ci viene in fame aggiungevo al prosciutto e alla cipolla ci aggiungevo il l'erbe il formaggio alle erbe tipo che fa da panna e poi dentro le tagliatelle cioè ragazzi stasera ci facevamo una maniata che ti dico te lo sto solo dicendo che cosa poteva essere quella tagliatella però abbiamo trovato la lasagna voglio dire ti dici di no ti dici di no la lasagna anche se a me la parmigiana mi è rimasta qua allora la lasagna era buonissima niente da dire ma la parmigiana era più buona per te amore? c'hai tutta la faccia a zozza c'hai la qualsiasi la qualsiasi ma questa è una volta che vai racconto e compra la parmigiana vabbè se ce l'hanno in vetrina è vero ogni volta non la guardiamo perché siamo lì che è eccitatissima a prenderla la magic box e neanche guardo cosa c'è cosa non c'è poi la compri e la trovi dentro infatti no comunque la parmigiana amore che cosa ti è piaciuto di più a te la lasagna o la parmigiana tutte e due la lasagna ti è piaciuta di più la lasagna? vedi abbiamo gusti diversi cioè gusti diversi nel senso a me è piaciuta di più la parmigiana però a Marco mi è piaciuta di più la lasagna vedi? a pezzoccheri a pezzoccheri poi cos'è che c'era ancora? no a me la parmigiana è la cosa che mi è piaciuta di più di tutti fino al pollo che era buono anche il pollo ehm poi si vedeva un po' il letto stasera no amore stasera siamo andati da dio eh perché cos'hai da dire stasera? dai su se ce ne vuole per dire che non sei andato bene no no la conna è una garanzia eh una garanzia te lo dico veramente proprio con te noi abbiamo la conna da capriace ma non lo fa il togo togo no non lo fa non è che tutte le conna lo fanno eh ma quello è più grande però di questo che abbiamo qua noi e beh oddio no anzi è più grande il nostro è vero è più grande il nostro no ma non è che tutta la catena conna lo fa va proprio appunto vedita no comunque ragazzi abbiamo mangiato benissimo non so se Marco e abbiamo trovato pure lo yogurt al caffè non lo mangio domani a merenda l'altra volta le nuvole ah l'altra volta l'altra volta abbiamo trovato le nuvole ehm ehm però eh lo yogurt al caffè invece a me piace poi proprio al caffè a me piace proprio al caffè di solito lo prendo al caffè io e me lo mangerò domani a merenda stai tranquillo che non mi ha buttato niente no a meno che non lo vuoi te stasera come dolcetto lo vuoi come dolcetto anzi ma a te il caffè non piace quando compri to go to good lo fai acquista e vieni fuori grazie anche oggi hai salvato del cibo e il cibo ah ma così ti esci non lo sapevo il tipo perverito tuo oggi il cibo non verrà sprecato guarda che bello che bello ma ma il genere 5 euro ragazzi dai 5 euro ma veramente veramente 4,98 c'è allora io la tagliatella così come te l'ho spiegata sicuro la farò magari anche domani la farò domani o non lo so sabato vediamo però vedi che ci abbiamo mangiato stasera farò la tagliatella che è un altro pasto e ci abbiamo già mangiato due volte con 5 euro amore non so se mi spiego tu hai finito o non hai mangiato ancora? no no perché ti vedo indeciso eh tu hai coraggio di indeciso né troppo pieno né troppo pieno ti manca lo yogurt ti manca è vero? lo sapevo io che ti mancava lo yogurt però non è il caffè io lo so che ti piace colere il caffè tutto niente eh? basta hai finito? allora possiamo salutarmi a sera va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche stasera noi quando c'è il too good to go siamo pronti cioè nel senso se le altre serie non le abbiamo fatte video perché non avevamo niente da dirvi di particolare anche io non avevo niente da caricare di creazione e roba varia oh amore vai a prendere i due vasi che glieli voglio far vedere veloce ah via scusate no perché ho fatto due vasi stasettimana due tre giorni e sono stata impegnata con quei vasetti lì no? i barattoli e allora però se c'è il too good to go noi arriviamo con i video eh perché le altre sere abbiamo guardato se c'era il too good to go e non c'era mi sono arrangiata io a fare cibo ma adesso arriva anche l'altra sorpresa qual'altra sorpresa? lo Sperados no amore no amore Rados no guarda che bello sto vaso e guarda che bello questo sono tutti due meravigliosi ragazzi ditemelo anche voi che sono bellissimi io li adoro neanche te lo sto a dire questo gli ho fatto il tappo cookies con tutta la cioccolata che cola mmm buono non voglio di mangiarla mentre questo è per la frutta secca e infatti è un po' più diciamo gli ho messo la noce gli ho messo la mandorla e gli ho messo delle cose due mandarini un po' più leggeri ecco diciamo così più leggeri il coperchio si apre che così no? guarda che roba è bellissimo adoro tantissimo fare i coperchi infatti ogni volta dico me lo devo fare anche per me me lo devo fare anche per me e solo che non ho mai tempo di ma il cazzolaglio oggi lo scalzo ecco bravo amore non ho mai tempo di farmelo per me comunque me lo farò sicuramente anche per me niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e anche i miei barattoli a fare i tuoi saluti a chi? a zicchi di dog e trilli di snake a zicchi di dog a zicchi di dog a zicchi di cat a zicchi di cat a zicchi di cat e trilli di snake ecco c'è uno saluto c'è uno saluto di Alex ciao Alex c'è un serpente e io vi faccio un saluto degli animali c'è un serpente si chiama trilli bellissimo certo spoliciate se avete voglia condividete se avete voglia e alla prossima ciao 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 ciao